Non credono che io sia davvero malata. Se possono scegliere mi evitano. Pensano sia colpa mia se non ce la faccio. Dicono che io non abbia voglia di lavorare. Non mi comprendono e spesso mi giudicano. Per loro non mi manca nulla, non devo lamentarmi. Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che Luana subisce da quando soffre di depressione. E Luana non è la sola. Una persona su cinque ne affetta e potrebbe essere vicina a te più di quanto tu non creda. La depressione è una malattia e come tale va compresa, rispettata e curata. Per farlo è necessario informarsi correttamente perché la conoscenza è il primo passo per comprendere e non far sentire solo, sbagliato o diverso, chi ne soffre. Rompiamo il pregiudizio. Grazie a tutti.